Tesla già da diversi mesi ha iniziato, ha avviato un programma che prevede l'apertura della sua rete di supercharger a tutte le automobili, quindi permettendo anche alle auto che non sono delle Tesla di sfruttare i vari stalli di ricarica, chiaramente a differenti velocità. Attualmente Tesla ha aperto solamente una piccola percentuale delle oltre 40.000 colonnine disponibili in tutto il mondo, successo lo dico già anche qua in Italia, ma è un cammino chiaramente destinato a mettere a disposizione sempre più stalli di ricarica fino ad arrivare a un probabile futuro dove qualsiasi colonnina Tesla possa essere utilizzata da chiunque. È giusto? C'è una scelta azzeccata da parte di Tesla o no? Che effetto sta avendo questa scelta? Su chi invece possiede una Tesla? E quali sono gli effetti negativi di questa mossa? Voglio analizzare la situazione e, come dire, cercare di rispondere a queste domande. Vi ricordo lasciare un mi piace, iscriversi al canale, è importante. Qui sotto, nel caso, trovate i vari capitoli per saltare da una parte all'altra del video. Perché Tesla ha fatto questa scelta? Da una parte abbiamo la versione, quella ufficiale, no? Raccontata anche da Elon Musk in più occasioni, e cioè che aprire gli stali di ricarica fa parte della missione dell'azienda di Tesla che è velocizzare l'adozione delle auto elettriche. Siccome la rete di ricarica attuale, come sappiamo, è solamente discreta, quella generale intendo dire, aggiungere alla rete le colorine Tesla, come dire, dà più possibilità a tutti gli automobilisti di poter ricaricare più facilmente le loro auto, una notizia sicuramente buona e una notizia forte per l'espansione del parco delle auto elettriche. Dall'altra parte ci sono le motivazioni quelle nascoste, cioè ogni minuto in cui gli stali di ricarica Tesla rimangono vuoti, corrisponde a una perdita di opportunità di guadagno. Ovviamente Tesla non rivende i kilowattora di energia allo stesso prezzo a cui gli acquisti la rete di ricarica, quindi rappresenta una voce di bilancio e più viene usata più questa voce di bilancio sarà attiva. Questo impegno permetterà inoltre a Tesla di accedere a degli incentivi statali per la creazione di ulteriori colonnine, alimentando una sorta di circolo virtuoso per l'azienda. Insomma, da una parte chiaramente sembra un'azione, e probabilmente lo è, benefica a vantaggio dello sviluppo del mercato delle auto elettriche, ma certamente non stiamo parlando solo di beneficenza. Nel 2020 io ho acquistato la mia Tesla, una Model 3. La scelta era ricaduta su Tesla e non su un'altra auto elettrica, non solamente per l'auto stessa, che comunque mi piaceva, ma proprio per la rete di ricarica. Tutte le automobili Tesla sono altamente integrate con l'infrastruttura di ricarica e, come dire, la quantità di auto in circolazione, soprattutto in passato, a confronto con la dimensione della rete di ricarica, offriva una certezza, praticamente, di avere un'ottima esperienza d'uso. In altre parole, rispetto a una qualsiasi altra EV che deve contare su altre reti di ricarica, con Tesla si ha una certezza in più in termini di disponibilità e di affidabilità della rete, come dire, tale da scongiurare dei brutti mal di testa. La notizia dell'apertura della rete a tutti gli altri veicoli va un po' a vanificare questa certezza. Al punto tale che la community, in realtà, si è un po', come dire, divisa davanti a queste decisioni e molti, che come me, probabilmente, hanno basato la propria scelta di acquisto dell'auto, anche su questa sicurezza non, come dire, non hanno nascosto la propria delusione. Ci sono moltissime discussioni, moltissime lamentele. E un'altra lamentela che si è diffusa tra la community è invece legata puramente al costo delle automobili, cioè il prezzo premium delle auto Tesla, soprattutto dall'inizio, qualche anno fa, no? Fino a pochi mesi fa, diciamo, come dire, prima del taglio dei listini, è sempre stato considerato dagli acquirenti come pago un costo aggiuntivo che però è necessario e che permette all'azienda di sviluppare la rete di ricarica. E ora, chiaramente, qual è la sensazione? Che siano, grazie ai possessori Tesla, sono stati loro, come dire, a pagare per poi un servizio che ormai e soprattutto in futuro sarà disponibile per chiunque. Insomma, abbiamo la community divisa. Ovviamente ci sono invece quelli anche, no, che sono d'accordo con questa scelta. Ma quello che è certo è che sta venendo meno una sorta di garanzia. Tesla offre ottimi automobili, tra le elettriche, ma anche una rete di ricarica affidabile, qualcosa che nessun altro brand oggi può ancora offrire. Questa scelta di apertura a tutti, di primo acchito, va a declassare Tesla al livello di altri brand o quantomeno li va a perdere un nasso nella manica. Tutte le altre reti di ricarica hanno alcuni problemi che li rendono meno affidabili rispetto a quelle di Tesla. Prima di tutto sono presenti sul territorio in maniera, come dire, frammentaria. Che se da un certo punto di vista potrebbe anche essere vista come un vantaggio, no? Perché comunque li trovi un pochettino ovunque, non tutti concentrati in dei posti. Dall'altra parte la presenza di solo un paio, in media, di stali di ricarica per ogni punto diminuisce molto la possibilità di trovare quelle colonnine libere. Soprattutto, se aggiungiamo a questo accorso che ho detto, due altri elementi. La certezza del loro funzionamento, cioè la connessione con le bare app, alle volte non è precisa come Tesla, e l'esistenza di guidatori incivili che non si fanno scrupoli nell'occupare un parcheggio dedicato alla ricarica delle automobili elettriche. E quest'ultima casualità in realtà capita più spesso di quanto possiate immaginare. Probabilmente i guidatori di auto elettriche, soprattutto in città ad alto traffico, lo potranno confermare. Quindi quello che sto dicendo è che quando invece si raggiunge un'area dedicata a supercharger di Tesla, l'informazione fornita dall'applicazione circa la disponibilità e circa il funzionamento, prima di tutto, è molto affidabile. E anche se, come dire, non dovesse essere così, il fatto che ci siano luoghi in cui ci sono molte colonnine e quindi la presenza delle colonnine in grande quantità non può risolvere il problema, no? Perché se una non è disponibile, come dire, no, rimane una percentuale elevata di possibilità di trovare un'altra colonnina libera. Quindi, come dire, si abbassa, al contrario, il rischio, no, di magari arrivare in un punto dove ci sono delle colonnine pensando di essere libera. L'applicazione ci diceva che la libera poi non è libera e bisogna poi andare a fare veramente diversi altri chilometri per trovare altre colonnine. I supercharger di Tesla sono realizzati per chiaramente soddisfare le necessità logistiche definite dalle auto Tesla. E cioè, intendo dire, la lunghezza del cavo, il posizionamento delle colonnine, il posizionamento dei, come dire, dei connettori di ricarica. È compatibile con le specifiche delle automobili, il posizionamento delle porte di ricarica sulle auto Tesla. Non esiste nell'industria uno standard in questi termini. Alcune automobili elettriche di altre marche chiaramente hanno la presa di ricarica davanti, altre dalla parte opposta dietro, altre a sinistra, altre al centro. Insomma, non c'è assolutamente uno standard. La presenza di una porta di ricarica nella parte opposta rispetto ai modelli Tesla, o comunque, come dire, troppo distante o impossibile da raggiungere con il cavo, porta i possessori di queste altre auto, le auto che possiamo definire non compatibili, no, con i supercharger Tesla, a occupare in maniera sbagliata gli stali di ricarica per riuscire a connettere alle loro auto. Ma questo comportamento rende alcune colonnine inutilizzabili. Non è un problema di facile risoluzione, poiché, come dire, pretendere che l'industria utilizzi uno standard in termini di posizionamento delle porte di ricarica sulle automobili sembra, come dire, qualcosa di decisamente surreale. E credo, io credo che nemmeno la modifica di tutti gli stalli da parte di Tesla per evitare questi problemi sia qualcosa di fattibile, perché i corsi sarebbero molto alti. Certo, potrebbe modificare i progetti per tutti quelli futuri, e probabilmente lo farà, però forse il modo più semplice sarebbe chiedere agli utenti che decidono di utilizzare gli stalli Tesla, l'insermito della targa dell'automobile nell'app di Tesla e, come dire, verificare se quel modello di auto sia o no compatibile con un uso corretto delle aree di ricarica Tesla, evitando di occupare, poi di posizionarli in maniera tale che alcuni stalli poi non si riescono a utilizzare. La mossa più sbagliata che possa, nella mia opinione ovviamente, fare Tesla in questo processo è fare il passo più lungo per la gamba, come si dice, cioè rendere le proprie piazzole di ricarica piene di auto di altre marche, creando una sorta di disservizio per tutti coloro che invece hanno acquistato una Tesla, contando anche su questa caratteristica. Non so come l'azienda chiaramente stia gestendo questa apertura, se ad esempio c'è un controllo sulla quantità di colonnine occupate da automobili non Tesla, in maniera tale magari da tenere sempre liberi degli stalli per i possessori invece di auto Tesla o se si stiano analizzando i dati statistici così da calibrare la disponibilità o meno delle colonnine. In ogni caso, se questa apertura riuscirà veramente a contribuire alla crescita del mercato dell'elettrico sensibilizzando anche gli altri attori attivi nel business della ricarica ad aumentare chiaramente gli investimenti ed espandere la rete di ricarica e se Tesla potrà accelerare lo sviluppo della propria rete, probabilmente quello che otterremo saranno solamente dei benefici. Gli stalli potranno essere in quantità tale da non creare di servizi e anzi chiaramente aumenterà anche l'omogeneità sul territorio. Guardando quindi il bicchiere mezzo pieno, sperando una sorta di cammino graduale e ponderato, a conti fatti questa scelta potrebbe portare solo dei benefici e chissà, no, magari tra questi benefici potrebbe anche esserci la diminuzione del costo al singolo kilowattora di energia escludendo, come dire, altri elementi di rincaro fuori dal controllo di Tesla o di altri fornitori di colonnine di ricarica. Questa è la mia opinione, se vogliamo parlarne facciamolo qui sotto nei commenti, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao! Grazie a tutti!